Ne hanno parlato talmente tanto che alla fine il lupo è arrivato in consiglio regionale. No, non si è diretto verso l'assessore Pan, ma ha preferito puntare i banchi della maggioranza. Eccolo, un lupo di peluche nell'aula del consiglio regionale, dopo le polemiche legate alla volontà di abbandonare il progetto di ripopolamento Life Wall Fund. Un dono scherzoso si è poi venuto a sapere del capogruppo leghista Nicola Finco a Sergio Berlato, il patron delle doppiette.